Bene, allora, sei pronta per il cambiamento? Volevi una misura sopra le spalle? Adesso che scopriremo la natura dei tuoi capelli, valuteremo qual è la misura giusta per curare la parte estetica e anche il fattore pratico. Va bene? Eccoci qua, Giulia. Allora, come ti sembra il cambiamento? Mella. Ti piace? Bellissimo. Potrei che sarei pratica e complimenti perché sicuramente è la mia più gruntosa. Grazie mille.